Il grandissimo interprete Carlo Verdone insieme a Silvia Nipiarico Bene, benvenuti, grazie per essere qui Allora, innanzitutto, Luca, come è nata l'idea di questo film? Una sera d'estate del 1985, una serata particolarmente calda e affosa che non riuscivo a prendere sonno, mi sono messo a scrivere il soggetto di questo film di notte C'avevo già un'idea però C'avevo già un'idea Così, inavvertitamente, senza neanche rendermene conto lo presentai a Cechigori e Cechigori mi disse Ma, l'è belloccio se lo fa Carlo, se lo fa fare Dico, ma santa madonna, vada via Ma non ci credevo Ma è incastrato, in poche parole Ma è incastrato Ho detto, qua ci vuole un partner visto che è una commedia veramente surreale è una farsa fatta bene, surreale tipica di quegli anni in là Allora, il personaggio ideale secondo me era Renato Pozzetto che ha una comicità, effettivamente, molto surreale E poi abbiamo trovato anche Silvia Nighiari Poi abbiamo avuto Tiziana Pini Tiziana Pini Che non è venuta di saluto E poi tanti ciccioni Che purtroppo, mi sa che non ne vive Sono quasi tutti morti Sono morti tutti Non ne vive ne manco uno Sì, grazie Il più magro di tutti era la sorella Pensa negli altri che erano Sono morti tutti Tutti? Tutti, ma tutti eh Tutti, tutti del cuore Perché? Perché erano troppo grossi Luca, com'è stato?